Campana a meno 40, eliminazione dal meno 39. Ed è Luciani che si porta in testa al gruppo, ora loro rigida, salta la prima eliminazione, perché si è arrivata a una atrella. Campana quindi a meno 38, eliminazione a meno 37. Tanto in testa al gruppo con il numero 760 Ferretti. Guarda Rodriguez Guerrero con Cesaro. Tanto in testa due treni, l'ho dato su da Francesca loro rigida, loro rigida, loro rigida. Tanto in testa due treni, l'ho dato su da Francesca loro rigida, loro rigida. Gruppo compatto. Avvicinamento in testa al gruppo con la numero 816 Corsini, per la città di Pioro Gargallo. Si è portato in testa al gruppo, con di Natale a ruota. Al passaggio siamo anche meno 42. Paluzzi anche nelle prime posizioni. Allora Rodriguez Guerrero, intanto c'è una atleta che si è staccata dal gruppo. con la numero 816 Corsini, per la città di Pioro Gargallo. Con la numero 816 Corsini, per la città di Pioro Gargallo. con la numero 816 Corsini, per la città di Pioro Gargallo. La natura buttata in testa da Francesca loro rigida. al passaggio suono della campana. Ed iniziamo con le eliminazioni. Ora il gruppo è allungato. In fila indiana. Al passaggio, prima indianazione. Ed è la numero 261. Campana. Loro rigida Francesca Poi. Loro rigida Giulia, Poi Ligiani, Poi Montico, Poi Paluzzi, Poi Di Natale. 495 a Moneta. Al passaggio, in iniziazione di meno 35. 137. 137. Piazza Orlandini. Piazza Orlandini. Siamo alla campana di meno 34. 757 a Moneta. Piazza Orlandini. Loro è l'atleta di Piazza Online, che si è portata in testa al gruppo. 106. 106. È l'atleta eliminata al passaggio. Piazza Orlandini. Campana di meno 32 con Rodriguez Guerrero in testa al gruppo. Piazza Orlandini. Piazza Orlandini. Piazza. Spara! Non mi pensi che non ero ancora in testa su un po' con la seconda ruota. Debalba! Andiamo ora con l'eliminazione numero 29. 760, intanto si sono portate in testa le due atlete della città di Briolo, Gargallo, Tagliata e Corsini. Poi Rodríguezio Guerrero, poi Che Palma, poi Gatti, poi Rodríguezio Guerrero, Luciani, Montico, Palussi, Sinataro, Balanzano. L'eliminazione numero 27, 506, numero 81, Ammonita, al passaggio campana numero 26. Rodríguezio Guerrero per Palma, Gatti, Lolo Brigida, Lolo Brigida, Luciani, Montico, Palussi, 244, entra in diffida. L'eliminazione numero 25, siamo a metà gara, ed è la 803 che deve abbandonare la gara. Il gruppo si assottiglia con il passaggio. Ci sarà la campana di numero 24, con Rodríguezio Guerrero e De Palma. Nelle prime due posizioni, poi Paganelli, al passaggio eliminazione numero 23. Ed è la numero 22, che deve rilassarsi, non c'è un'accelerata nel gruppo che si spiaggia nella pancia, si gonfia. 495, entra in diffida, la numero 80, Ammonita. Ed è Corsini, in testa al gruppo, seguita da Lolo Brigida, Lolo Brigida. Cerchinata, cerchinatissima. Non è vero, non è vero, non è vero. Al passaggio eliminazione numero 21. 838. 852. Numero 32, Ammonita. 852. Da quell'altro si vede. Ancora Corsini, in testa, seguita da Francesca Lolo Brigida, poi Giulia Lolo Brigida, poi Luciani, poi Montico. Vai Matti! Ed eccoci all'eliminazione di meno 19. Vai Matti dai! Numero 32, è proprio Montico, per rilassarsi. E lo lasciamo alla campagna, il numero 18. Ah, è un run. 436, Ammonita. Vai Matti! È stata un'accentrazione in testa al gruppo, con tutte che volevano entrare. Vai Matti! Dai Matti! 410. Chi vi alza la preta, che arrivavano insana, mentre ora è un ritmo in testa al gruppo. Poi comincia a farsi più deciso. Vai Matti! Vai Matti dai! Vai Matti dai lì! Vai Matti! Vai Matti! Alla campana di meno 16. Abbiamo due atleti che hanno perso la coda del gruppo, con Corsini di Natale. Basta che provo a farla parla parla. Loro vigila, loro vigila. Luciani, nelle prime posizioni, passiamo alle iniziazioni. Vai Matti! Vai Matti! Sì! Sì! Si è tutto! Ed è la 852 che deve fermarsi con la grande amicità di Piole Dalgallo. Allora in testa al gruppo, ora, l'origine che si è portata in testa. Sì! il numero 81 entra in diffida, in testa Loro Viglida, Loro Viglida, poi Luciani ha passato in azione numero 13, 252, andiamo a vedere la testa del gruppo, sono 12, se non ho contato male le altre le rimaste in gara, al passaggio Campana numero 12 con Di Natale, Loro Viglida, Loro Viglida, Loro Viglida, Luciani, Paluzzi, Corsini, Paganelli e via via dite le altre, passiamo all'ediminazione di Loro Viglida, 11, 816, l'atleta di città di Loro Carcano che si alza l'ora Francesca, Loro Viglida, in testa del gruppo alla cappana degli ultimi 2000 metri, 436 entra in diffida, l'ora di Natale in testa del gruppo, al passaggio di Loro Viglida, 495 Francesca Lodogigida, Giulia Lodogigida, poi Luciani, poi Pagani, poi Pagani, poi Libertate Suolo della Campana, poi Gatti, poi Ronzani, Tagliata e Palma, queste Gattolette sono rimaste in gara Siamo all'immigrazione numero 7 Ed è la 244 che deve fermarsi di Natale Con De Palma ora in testa al gruppo, al passaggio Campana dei meno 6 De Palma, Lodogigida, Lodogigida, Luciani, Pagani, 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 Pagani Queste le atlete nelle prime posizioni, poi Tagliata, poi Gatti e poi Ronzani a chiudere Passiamo all'immigrazione numero 5 Ultimi millimetri 757 Gatti 757 Gatti E deve fermarsi Campana con Francesca Lodogigida in testa al gruppo Adesso ogni passaggio, eliminazione Abbiamo sentito la Campana di meno 4 Entriamo in team vuodone, trattative 758 Pengarsi Ed è Lodogigida Lodogigida Luciari Pagani, 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 Pagani della Pagani Sonoowa Siamo all'immigrazione alla numero 2 Con Francesca Lodogigida in testa 268 De Palma deve fermarsi L'uomo dirigente Francesca all'interno Paluzzi. L'uomo dirigente Daniele. L'uomo dirigente Sara Mutti in una storia a parico di Ronzani. Andiamo all'ultimo giro con l'uomo dirigente Francesca fuori Giulia, fuori Paluzzi. Giulia Nonorrigida, la vice. Francesca Nonorrigida e fuori Paluzzi.